Il Consiglio Comunale di Nuoro ieri ha approvato il bilancio di previsione per il 2014, un budget che si aggira sui 70 milioni di euro. La maggioranza di centrosinistra ha votato compatta il documento finanziario, mentre dall'opposizione non sono mancati strali, specie per alcune poste inserite dall'amministrazione comunale, a suscitare polemiche in particolare la voce sull'Attari, la tassa sui rifiuti urbani, che ha preso il posto dall'Attarsu. Cambia il nome, ma il livello di tassazione cresce. Sulla questione torna oggi con una nota Pierluigi Sayu, capogruppo del PDL, in Consiglio Comunale, che rileva come l'Attari costerà ai Nuresi 400 mila euro in più rispetto all'anno scorso. Per Sayu si tratta di una vera e propria ammazzata. Se lo scorso anno i contribuenti pagavano poco più di 7 milioni e mezzo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, scrive il capogruppo del PDL, quest'anno dovranno sborsare quasi 8 milioni di euro. Sayu fa la cronistoria del tributo sulla raccolta dei rifiuti. Quando venne introdotta in Nuresi fu promesso che grazie a quel sistema avrebbero pagato meno, si legge nella nota. Se confrontiamo i dati del 2014 con quelli del 2011, continua Sayu, vediamo però che il costo del servizio è cresciuto di quasi 2 milioni e 200 mila euro. In quattro anni si è passati da 5 milioni e 748 mila e 595 euro a 7 mila e 947 e 434 euro, con un aumento del 40%. Questo a fronte del fatto rileva il consigliere del PDL che non è cambiata nella tipologia del servizio e nella quantità dei rifiuti prodotta. Ci sono alcune voci il cui costo però è letteralmente esploso, sottolinea Sayu, in particolare lo spazzamento delle strade che costerà 1 milione e 700 mila euro. Sull'Atari e dunque sui cittadini, continua Sayu, vengono scaricati i costi impropri per 700 mila euro, che si aggiungono al costo delle proroghe del servizio che il comune deve contrattare ogni anno. Infatti ricorda l'esponente di opposizione, il bando per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attende di essere pubblicato dal 2010. Per Sayu a pagare gli aumenti saranno soprattutto alle famiglie perché i maggiori costi verranno scaricati sulle utenze domestiche. Gli aumenti dell'Atari, conclude Sayu, porteranno la tassazione dei nuresi a livelli record.